Buongiorno e bentrovati, oggi siamo a Loano in pieno centro, siamo presso l'hotel Villalina in compagnia della signora Rudy che è la responsabile del ricevimento. Buongiorno Rudy e benvenuta. Allora vedo che avete riaperto, sono stati tre lunghi mesi di lockdown però mi sembra che la situazione ora è positiva, i primi clienti sono arrivati, c'è stato il primo weekend, c'è stato il piedone, perfetto. E le prenotazioni adesso come vanno? Cominciano, i clienti sono con voglia di arrivare e positivi, diciamo che va dai abbastanza. Quali sono le misure che avete adottato in funzione del protocollo sanitario imposto? Ecco, come richiesto abbiamo cominciato con i punti per la sanificazione delle mani nelle uscite dell'albergo, poi abbiamo nella sala pranzo distanziato i tavoli come richiesto comunque almeno di un metro e la sanificazione delle camere è quotidiana come era prima ma in questo caso abbiamo solo adottato dei prodotti differenti per la sanificazione. Per quanto riguarda invece il discorso qui di Loano, vedo che sono stato un attimo in giro questa mattina ho visto che comunque la gente è tranquilla, non c'è questa grande ansia No, fortunatamente non l'abbiamo visto così tanto, le mascherine comunque sono obbligatorie nei spazi comuni, si ricorda questa cosa qui, poi a tavola ora la può togliere tranquillamente. Abbiamo cambiato solo il modo di servire la colazione perché non è più a buffet, c'è un buffet ma chiuso e c'è poi il personale che serve comunque dietro alle stelle cose. Ecco, voi avete anche una spiaggia qui vicino, no? Si, in Bainet 1. Perfetto, lì invece com'è la situazione? Anche lì la situazione è abbastanza buona, la gente ha voglia di venire al mare nello stesso tempo anche lì abbiamo preso tutte le preocazioni giuste gli ombreloni sono distanziati come la legge vuole per il resto è abbastanza tranquillo perché le persone vengono con la mascherina scendono in spiaggia con la mascherina, nei spazi comuni devono comunque usare la mascherina però si chiude abbastanza tranquillo. Bene, allora a questo punto invitiamo i turisti a venire a Loano presso l'hotel Villalina e passare la giornata ai Bainet 1. Vogliamo dare il sito internet per poter appunto contattarvi e vedere di prestare? Potete tramite il sito che è www.villalinaloano.it se no il numero di telefono è 019 66 93 58 che funziona comunque per tutte le nostre strutture sia per la spiaggia, per l'albergo e anche l'altro albergo vedendole la stasperiamo Villa L che la apriamo questo sabato qui. Perfetto. Bene, a questo punto da Loano, dall'hotel Villalina e dalla signora Rudy che vi aspetta è tutto, buona giornata e buona stagione. Vi aspettiamo a Loano che è una bella cittadina. Ecco, ci siamo trasferiti presso i Bainet 1 che sono antistanti l'hotel Villalina e siamo in compagnia del bagnino signor Matteo. Matteo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Matteo, è iniziato il primo weekend di estate, come è andata? Sì, ma decisamente bene, pensavamo di incontrare decisamente più problemi invece la gente si è comportata decisamente bene, non abbiamo riscontrato particolari problemi se non qualche piccolo inconveniente di organizzazione. Se uno esce dall'acqua, si dimentica la mascherina, ma piccoli inconvenienti che non comportano sicuramente. Quali sono state le misure che avete adottato all'interno dei bagni? Abbiamo adottato delle misure seguendo le linee guida, abbiamo diviso le docce anche con del plexiglass per evitare che ci sia una commissione all'interno dei bagni, facendo la doccia, anche nelle docce esterne, come si vede ci sono tutti i divisori. Raccomandiamo sempre alla gente di mettere la mascheria nei luoghi comuni al di fuori da quando ci sia. Non sicuramente però in spiaggia ovviamente. Quando si va all'interno dei servizi al bar, di entrare al bar comunque una alla volta, seguire un percorso ben definito per l'entrata e per l'uscita e poi mantenere il classico metro di distanza come noi in questo momento. Io facendo così credo che la stagione si possa portare avanti. A livello di prenotazioni ne avete? A livello di prenotazioni ne abbiamo sicuramente, abbiamo subito un leggero calo per quanto riguarda anche purtroppo la disposizione degli ombrelloni, che comunque è molto bella, è molto più spazio, abbiamo perso parecchi ombrelloni. Però dai, visto quello che si prospettava, abbiamo un messaggio positivo qui a Loano. Bene, allora a questo punto vogliamo dare l'indirizzo internet e il numero di telefono? Certo, l'indirizzo internet e il sito www.bagninettuno.com Il numero di telefono è 019 22 11 926. Perfetto, allora un messaggio come abbiamo detto positivo qui da Loano ai bagni Nettuno, vi aspettiamo, buona giornata a tutti. Buona giornata e arrivederci a tutti, vi aspettiamo.